persone anche ammalate, benedire il lavoro dei medici, degli operatori sanitari, benedire tutto il nostro quartiere, tutta la nostra città. Affidiamo tutto questo al Signore, diciamo, Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato del tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, con il cielo prosentitato, faccio oggi il nostro Padre e gli Anni, che rendi a noi i nostri amici, come noi le rendiamo ai nostri amici, e non ci si muoverebbe nella sua vita di liberazione dal mare, nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, Amen. Grazie e buona festa ancora a tutti!